E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabri Costa e benvenuti in questa nuova recensione. Ora, in questo Spyro 1, Gabri Costa vi farà conoscere il terzo aeronauta. Ricordatevi che noi lasciamo il mondo degli stregoni perché adesso si va in un altro nuovo mondo. Sapete come si chiama questo aeronauta? Si chiama Tuco. E ora vi farò sentire che ci dice. Grazie per aver recuperato tutte queste uova di drago, Spyro. Non c'è dire, figurati. Lo recuperate tutte queste uova di drago. Se sei pronto salta a bordo e ti porterò nel mondo dei domatori. Chi va di andarci? Certo che mi va di andarci. Ora si va nel mondo dei domatori, ragazzi. Vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Vi aspetto nel prossimo video con il mondo dei domatori e vediamo se vi piacerà. Sono sicuro che ci piacerà senz'altro e faremo felice Tuco con l'aeronauta.